Giovanni Basile, il promotore del comitato pro ospedale di Agropoli e appartenente all'associazione Camelot, centra l'obiettivo. L'avvocato è riuscito a far dialogare i rappresentanti di vari partiti politici in opposizione al sindaco di Agropoli, Franco Alfieri. L'incontro si è svolto presso l'oratorio Giovanni Paolo II e ha visto la partecipazione dei consiglieri di minoranza Agostino Abate e Pasquale Di Luccio, Mario Capo, esponente agropolese di Fratelli d'Italia, Mario Pesca ed Emilio Malandrino di Forza Italia, Dino De Chiara, Forza Nuova, due attiviste dei 5 Stelle e Alfonso Migliorino. La seduta non era pubblica ma gli organi di stampa sono stati invitati nonostante la contrarietà di Dino De Chiara che sostiene di aver dato vantaggio all'avversario Alfieri. Proprio quest'ultimo sindaco della città di Agropoli è stato oggetto del discorso su cui si sono concentrati quasi tutti gli interventi. La necessità di ricostruire un'opposizione ad Agropoli che nonostante il contributo di Agostino Abate e Pasquale Di Luccio rimane quasi sempre inascoltata è la priorità. È indispensabile che i partiti contrari all'attuale amministrazione comincino a fare rete scambiandosi informazioni, programmi e progetti. Partecipazione e condivisione è l'imperativo del gruppo che non ha esitato ad attaccare la stampa locale chiedendo più spazio sulle loro testate giornalistiche. Non sono mancate gravi accuse all'operato amministrativo di Alfieri su un presunto buco finanziario nelle casse del comune. È stata citata la vicenda del cosiddetto porto furbo. Si è argomentato sull'ipotetica speculazione di Trentova sulle cooperative gestite da persone legate politicamente al sindaco e così via. Tante accuse che hanno avuto un unico comune denominatore, il sindaco. Negli interventi c'è anche chi ha fatto l'autoanalisi sostenendo che il potere di Alfieri è scaturito dall'assenza settennale di una reale opposizione e di una incapacità di comunicazione sia alla gente che ai media promettendo di ovviare al gap sin da subito. Dopo circa due ore di dibattimento l'assemblea si è sciolta dandosi appuntamento a breve termine per un nuovo incontro basato su programmazione e discussione di due o tre argomenti da portare in trincea con la consapevolezza che rimboccarsi le maniche non è mai troppo tardi. Adesso che il dato politico del sindaco è in calo e che alle prossime elezioni mancano soltanto 700 giorni.